Il Natale al parco divertimenti sta diventando un classico. Non solo in casa, tra i parenti si possono trascorrere le festività, ma anche nei parchi a tema. Immancabili gli appuntamenti a Disneyland a Parigi, atmosfera, luci, musica e colori incantati, animano il parco più famoso d'Europa per ben due mesi intorno a Natale fino al 7 gennaio. Lungo l'elenco degli eventi previsti, tra parate e spettacoli con i personaggi Disney, come il Mickey's Winter Wonderland, o a base di principesse e storie incantate, Sembrerà di vivere davvero in un libro di favola, specialmente durante le quotidiane parate. C'era una volta un sogno, seguita dai sogni di Natale e infine la Disney Funtillusion. Le luci la fanno da padrone e così nella via principale ci sarà un enorme albero di Natale pieno di luci, così come il castello della bella addormentata nel bosco sarà eccezionalmente illuminato da oltre 400.000 lampadine. Il programma natalizio di Gardaland si intitola Magic Winter e prevede offerte per Natale, Capodanno e l'Epifania. Per Natale l'hotel del Parco Italiano, interno al Parco, offre una cena buffet all'arrivo. Il pranzo del 25, Babbo Natale in persona che porta regali e lo show esclusivo al Gardaland Theater. Tra le attrazioni appositamente allestite per Natale, una pista di pattinaggio su ghiaccio, una pista di discesa su gommoni, un grande albero di Natale, alto 30 metri e una bella nevicata che ricrea un paesaggio tipico della Lapponia. In più si potrà visitare il laboratorio di Babbo Natale. Imperdibile infine il mercatino di Gardaland, aperto fino al 9 gennaio dalle 10 alle 18, dove si potrà gustare i piatti tipici natalizi e comprare souvenir di ogni sorta. Altra tappa da prendere in considerazione è l'Europa Park di Rust, il più grande della Germania e uno dei più pubblicitati d'Europa, che compie quest'anno 35 anni. Una lunga serie di spettacoli e attrazioni davvero particolari è in programma per l'inverno dell'Europa Park, anzi per il Magic Winter e anche se il 24 dicembre il parco sarà chiuso, ha in previsione show straordinari per la notte di Capodanno. Anzi per la notte di Capodanno.